Nome? Cristina. Giorgio. Cognome? Davena. Vanni? Soprannome? Cri. Ciccio Formaggio. Dai un soprannome a Giorgio. Pikachu. Dai un soprannome a Cristina. Sabrina. Personaggio preferito dei cartoni animati? Ce ne sono tantissimi. Posso dirti ad esempio Creamy che mi piace molto, poi Sailor Moon, Alicia che adoro. Gli stessi immagino. Prima di tutto gli stessi, poi Capitan Arlok, Pikachu e Patrick la Stella. Spongible. Sì, sì, capiamo. Poi un sacco di Disney, tutti della Disney. E personaggio odiato? Odiato. Diciamo quello che mi piace meno, Rascal. A me piace meno Majin Bu. La canzone di Giorgio che ti sarebbe piaciuto cantare? Oh sì. What's my destiny Dragon Ball? La canzone di Cristina che ti sarebbe piaciuto cantare? Occhi di gatto, piccoli problemi. Il cuore. Una canzone per cardiopatici del resto. Ce ne sono molte. In tono ce n'è un pezzettino. Chi sei Goku non lo sai, però presto lo scoprirai Alla grande. Giorgio? Tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, sono tre ladri abilissime, molto svegli agilissime. Alla grande. Hai mai vinto un premio musicale? Sì, un disco d'oro e cinque di platino. Ciao. Si è fatta da certa. Sì, va bene. A parte quell'esperienza molto carina di Makemu, poi da compositore e produttore qualche disco d'oro e un paio di dischi di platino. Però. Bosè, Giappone. Però. E poi immagino anche qualcuno tramite Cristina, cioè appunto gli amici di Cristina, eccetera, eccetera. Non male. Qualche amico in tv, vero? Eh, qualche amico in tv. Prima apparizione tv. Allora, tre anni e mezzo, con la valza del moscerino, lo zecchino d'oro. In un programma dell'oratorio della Chiesa Rossa è stato bellissimo, però alla fine mi sono messo a piangere. Mai partecipato a film? Sì. Quale? Eh, ho fatto un cadeau in un film con Massimo Boldi, cucciolo. Carinissimo. E tu? No, no, io non ho mai partecipato. Non ancora? Ma cioè, che io sappia no. Perché effettivamente è vero. Perché sei un gran bel maschio. Ma grazie. Un attore. Un attore nato. Tra l'altro. Vorrei fare Iron Man 4. Faresti molto bene perché da molti cosplay mi è stato suggerito di dirti, digli, che si vesta da Iron Man. Ecco, infatti, io l'ho detto apposta. Mi dicono questa cosa qua. E a un telefilm? Sì. Qualche telefilm, devo dire, da lì ci arriva Cristina, l'Europa siamo noi. Quanti ne vogliamo? Tanti, tanti. Giorgio? No, no, no. Il cinema per adesso non mi è ancora capito. Ma che peccato. Arriverà, rimanca. Ma sì, certo. Non sanno che cosa. Adesso ci sono le web series, vedrai che ti inseriscono dentro. Assolutamente. E a un festival? Beh, a un festival sì. Penso di sì. A questo punto posso pensare, dire magari, beh, sempre lo zecchino d'oro perché alla fine lo zecchino d'oro è un festival. A tutti gli festi. Vabbè sì. Festival di Sanremo. È vero, ti hai fatto Sanremo. Sì, sì. Categoria? Beh, ovviamente esordienti, esordienti, sì. Con il gruppo Itomato, il mio primo gruppo Itomato. Belle soddisfazioni. E adesso intonateci una strofa di Rossana. Ah, dai. Rossana dai pensaci un po' tu, perché così non se ne può più. Sappiamo che non ti arrendi mai. E provi e riprovi finché ce la fai. Rossana il tuo cuore palpita, ma la tua pazienza scalpita. Con tutta la tua vitalità. Rossana sei proprio una piccola star. Star, 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 star. E se non fossi diventata una cantante, avresti fatto? Il medico. No, io la guida Sherpa. Sì. Il sosia di Brad Pete. Sì, nell'altra vita. No, no, è vero, è il sandwich umano a Minneapolis. Perché volevo conoscere Prince. Doveste fare un cosplay? Va, Sailor Moon. Chi smiriccia tu invece? Forse chi cassa. Non male. No, Lanterna Verde. Ho bisogno di... Ha il fisico. Eh sì, sì. Avrei bisogno di... Un anime di cui vorresti cantare la sigla iniziale? Beh, un po'. Mazinga Zeta, ad esempio. Mazinga Zeta. Mazinga Zeta, spacca. No, io Ken. Ken, assolutamente. Ken Ciro. Non Ken Falco. Ken Ciro. No, non Ken Falco. Ken Ciro, Ken Ciro. E adesso, Cristina, saluta Giorgio a modo tuo. Ciao Giorgio, tesoro, ciao. Ciao Cristina. Cantiamo ancora insieme. Sì. E salutate gli ascoltatori di Cosplay On Air. A tutti gli ascoltatori di Cosplay On Air un bacio grande, grande, grande. Un forte abbraccio. Ciao ragazzi. Ascoltateci sempre. Sempre, 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 sempre. Ciao.